Ciao a tutti, bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italiano Sofico Degoni è la protagonista indiscussa della sesta edizione del GF VIP, proprio per questo ogni frase che pronuncia non passa mai inosservata, soprattutto se è di pessimo gusto, ecco cosa è successo . Sofico Degoni frase razzista.Pioggia di critiche sul web per Sofico Degoni al Grande Fratello VIP Nelle scorse ore è spuntata una frase della concorrente che ha fatto indignare il pubblico di Canale 5, scopriamo cosa ha rivelato GF VIP, Sofico Degoni nel merino del web.Nelle scorse ore, la Codegoni è finita al centro delle polemiche per una frase razzista che ha scatenato diverse polemiche Tutto è iniziato dopo uno scontro super acceso tra Sofico e Soleil Sorge Punto a difenderla ci ha pensato la mamma dell'ex tronista di Uomini e Donne, Valeria Pasciuti, che è intervenuta sui social sostenendo che sua figlia sarebbe vittima di bullismo da parte dell'ex di Luca Onestini Infatti, ha dichiarato, nella vita vanno avanti i bulli e non le brave persone, una clamorosa frecciatina a Soleil Punto anche se quest'ultima è super criticata da parte del pubblico, ha tantissimi sostenitori che prendono le sue parti Nelle scorse ore alcuni fan della Sorge hanno attaccato Sofì su social per una frase davvero di pessimo gusto, scopriamo di più su ciò che è accaduto Punto la frase razzista di Sofico Degoni.Sul web è spuntato un vecchio commento scritto da Sofico Degoni su Facebook, che risale a 5 anni fa, quando lei aveva solamente 14 anni Nel post si legge, Stine di Dimea. Non sappiamo se sia un fake oppure un fotomontaggio, ma dopo questo screenshot è scoppiata una gigante polemica sul web Molti credono che si tratti di un post al 100% vero e che il profilo social dal quale arriva questo commento sia proprio il suo Ma come abbiamo detto, non lo possiamo sapere. Potrebbe interessarti anche, Sofì Cudegoni, avete mai visto la mamma? Più bella della figlia I sostenitori di Soleil, hanno scritto. Valeria Pasciuti, tu che parli tanto di bullismo, eccoti qui, leggi questo. E ancora giudicate tanto gli altri E poi Sofì è la prima che fa ste cose, certe volte è meglio stare zitti per fare bella figura Tantissimi utenti hanno chiesto l'eliminazione della Codegoni dal reality, ma probabilmente non accadrà perché nessuno può sapere con certezza se questo screenshot non sia un fotomontaggio Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video